La notte del 14 alle 22, il sottomarino San Juan trasmette il suo messaggio di posizione e sicurezza. Era a 400 chilometri dalla costa, a largo del golfo San Corge. Forse quel messaggio obbligatorio che doveva essere inviato dalla superficie a ogni costo potrebbe essere stato l'inizio della tragedia. Riferirono di onde alte tra i 3 e i 7 metri, ma anche di una tempesta, condizioni pessime per la navigazione di qualsiasi tipo di imbarcazione. Ancora di più se si parla di un sottomarino che deve ritornare in superficie. Per darvi un'idea, avete presente il Tagatà che si muove sballottandovi avanti e indietro? Beh, era la situazione che l'equipaggio del sottomarino San Juan stava vivendo da quando era risalito in superficie.